Siamo con il nuovo presidente del Radiator, Ciro Ongari. Presidente, contento di questa investitura? Contentissimo perché se sono venuto qua sono venuto perché ho visto dei problemi che ha questa città che secondo me non dovrebbe avere proprio perché è una bella città, è una città storica, è una città di tanti tifosi che sono peggio del Napoli, cioè il gladiador ce l'hanno nel sangue. Allora mi sento pure io già da adesso un gladiadoriano, sono contento di stare qua, di darci una mano e di fare tutto quello che si deve fare per arrivare a un obiettivo che loro sognano da anni e anni e anni. Allora giustamente come voi avete visto ho portato con me la mia squadra come Peppe Bruscolotto, Ugo Maradona, Carannan D'Antonio, un nuovo allenatore che è un allenatore vincente, è un allenatore che la squadra la stimola, comunque spero con questo staff, questo inizio di staff che io ho portato serva a metterci in gareggiata per partire bene. Una rivoluzione con la vostra emestitura che ha portato all'ingresso di Caranante e Bruscolto, come detto anche voi, che è durata al pieno 24 ore, però comunque dietro c'è un grande lavoro preliminare. Sì, sì, questo è un lavoro che noi stiamo lavorando da 3-4 mesi, io e mio fratello, siccome noi siamo vecchi del Napoli, siamo stati dentro la società del calcio Napoli, quando stava Ferlaino, Maradona, tutti i vecchi del Napoli, e allora per convincere Bruscolotti ci ha voluto un po' di... ma un po' di un po' di... lui se l'ha fatto questo, a parte che l'ha fatto perché noi ci conosciamo da 20-25 anni, 30 anni, allora io ho una stima con Peppe, per me come un fratello, pure con Antonio, pure con Ugo, con Ugo che abbiamo avuto parecce, diciamo, iniziative insieme, eccetera, eccetera, e allora dopo 2-3 mesi loro si sono convinti e io ho detto, senti, mi dovete dare una mano perché io devo andare ad una società che ha dei problemi, ma grandi, 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 noi dobbiamo vedere come dobbiamo fare con la nostra forza, con la loro forza di andare avanti. Penso che un ringraziamento l'ha fatto al vecchio presidente Massimo Savoia che ha traghettato il gladiator da giugno fino a adesso, da agosto, prima nelle vestite di commissario straordinario e poi nelle vestite di presidente che comunque ha salvato il gladiator dal fallimento. Sì, su questo ne do atto perché veramente Massimo, veramente per questa società, per questo gladiator ha dato tutto, infatti io sono stato con lui una settimana, sette, otto giorni e ho visto che veramente, diciamo, come si usa dire, non andava neanche a casa, dei problemi, ha risolto parecchi problemi, cioè ha fatto tutto per questa società, è veramente un uomo straordinario.